Perché hai ucciso mio figlio? Te lo chiederò di nuovo. Perché hai ucciso mio figlio? Perché tu hai ucciso mia madre. Ah, allora è stata vendetta. Capisco. Non solo. È per la libertà. Libertà? Sembra che tu abbia tutta la libertà che vuoi. La libertà di uccidere il mio erede. Non parlo della mia libertà. Parlo di quella dell'umanità. Umanità. E cosa dovrebbe farsene l'umanità della libertà? Quando sono arrivato io, l'avevano. E cosa credi che ne abbiano fatto? Combattuto. Ucciso. Sofferto la fame. Io ho portato prosperità. Organizzazione. Tu cosa hai portato? Oltre alla violenza, le guerre, la morte. Coraggio, Dante. Devi farlo incazzare. Sai cosa, Mundus? Hai ragione. Non era per l'umanità. Era... Era per vendetta. Devo dirtelo. Uccidere tuo figlio così. Guardarlo esplodere in piccoli pezzi. Sentirti gridare come una delle tue puttane demonieche. Non apprezzo. Guardarlo esplodere in piccoli pezzi. 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 Non so, non so, non so, non so, non so. Ok, disattiviamo quest'affare. Non so, non so, non so, non so, non so. Che cosa hai fatto? Lascia stare mio fratello. Tutto ok, Dante? Ce n'hai messa di tempo. Prego, eh? Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Tienile impegnato! Io cerco di esporre l'occhio! Non attaccarlo! Rimani vivo finché non espongo il suo occhio! Dante! Fai qualcosa! Ora, Dante! Occupati dell'occhio! ! Bel salvataggio Guarda, si sta indebolendo Dante, vedi quello? Sì, lo vedo È ancora lì dentro In qualche modo, dobbiamo entrare e ucciderlo Coraggio, andiamo Perché il suo corpo era lì dentro? Mundus è unito al suo corpo fisico Ecco perché lo sta proteggendo Allora, se uccidiamo il suo corpo... Uccidiamo Mundus Allora, se uccidiamo Perché? No! Che cosa gli hai fatto? Vi salto! Che cosa gli hai fatto? Che cosa gli hai fatto? Oh 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 Yeah Oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.